L'Allianz Vero Volley Milano inizia a brillare da qui. In questi anni con il consorzio abbiamo costudito le migliori idee sullo sport. Mi fa piacere aver iniziato questa partnership con Vero Volley perché è una grande squadra. Vero Volley è una realtà fenomenale, è una realtà unica. Siamo orgogliosi di far parte di questo viaggio Alessandro. Noi da anni sosteniamo Vero Volley e facciamo con loro progetti sociali molto importanti. Grazie semplicemente per essere al vostro fianco. Siete dei partner straordinari. Qui è una cosa entusiasmante, devo dire che un po' poi ti prende la mano perché puoi vincere, fai uno squadrone come questo, fantastico. Siamo pronti per presentare l'Allianz Vero Volley Milano. Siamo pronti per presentare l'Allianz Vero Volley. Ciao. 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 Ciao.' 。